Proviamo la palla subito e entriamo subito in dai e vai, rimpiazzo e poi insieme questo sale, questo gira dietro, nascondetevi dietro la difesa, questo apre e poi aggressivi ad usare il blocco sulla palla, qui non lo so, o mettiti al gomito o desci ai tre punti o se c'è un buco prendi il buco e qui tre linee di passaggio pronte, abbiamo questa, abbiamo questa per l'altro lungo, abbiamo questa se lasciano l'angolo e abbiamo anche la quarta prendendo l'angolo opposto, ma la chiave è questa, ricordatevi, aggressivi, blocco e qui si va per tirare, se passano dietro andiamo al tiro, se fanno un aiuto piatto li prendiamo in mezzo, se escono aggressivi dubito muovere la palla, questi sono i due lunghi e le due chiave.